Abbiamo visto qual era la situazione dell'Italia nel 1919 alla fine della prima guerra mondiale con una grande conflittualità sociale, con problemi nelle campagne, con una situazione che sembrava ribollire perché nel frattempo a Parigi quando si discuteva della pace la questione italiana veniva sottovalutata, snobbata, c'era già quella questione che abbiamo chiamato della vittoria mutilata. Abbiamo chiuso l'ultima puntata parlando di Gabriele D'Annunzio che dopo aver appunto aizzato in un certo senso le folle sui giornali si decide a varare un'operazione addirittura militare anche se senza colpo ferire, quella della marcia su fiume della presa della città fiumana. Abbiamo chiuso qui ma oggi ovviamente dobbiamo andare avanti perché il 1919 non termina lì, anzi nel 1919 si va anche a votare, ci sono le prime elezioni dopo la guerra, ci sono nuovi partiti all'orizzonte e inizia anche il biennio rosso, insomma c'è molto da dire. Cominciamo a parlare di tutto questo subito dopo la sigla. Dentro alla storia, un podcast di Ermanno Scripp Ferretti, 243 puntata. Inizia il biennio rosso in Italia. Eccoci i nomi sempre ben trovati, siamo qui per 20 minuti o poco più per parlare di storia e in particolare di storia dell'Italia tra le due guerre mondiali, anzi immediatamente dopo la fine della prima guerra mondiale, della grande guerra che era stata un'esperienza sicuramente traumatica per moltissimi italiani, sia per chi era stato al fronte, sia per chi era stato in prima linea, sia per chi era rimasto anche a casa e comunque pure da lì aveva vissuto la tragedia di questo grande conflitto. Come vi dicevo nella premessa e come avevamo detto a suo tempo, in Italia in realtà la democrazia era stata, possiamo dire così, momentaneamente sospesa come bisogna dirlo era avvenuto anche in altri paesi liberali, occidentali del tempo. Perché? Perché in Italia si era votato, se vi ricordate, col suffragio universale maschile di Giolitti prima della grande guerra e poi però non si era più andato a votare. Le elezioni che ci si aspettava legittimamente erano state momentaneamente sospese perché appunto c'era il conflitto, c'era una situazione molto molto grave, c'era Caporetto, c'erano mille problemi e quindi di comune accordo tutti i partiti avevano deciso di rinviare le elezioni a dopo la guerra. Quindi nel 1919, a guerra finalmente ultimata, si dice adesso è ora, adesso bisogna andare effettivamente a votare. E si torna a votare con però molte novità all'orizzonte perché di mezzo rispetto a prima c'è stata la guerra. Giolitti è invecchiato e appare, almeno apparentemente, anche perso un po' del suo smalto, del suo ruolo di primaria importanza che aveva avuto fino a prima della guerra. Non solo. C'è stata anche una modifica a livello di legge elettorale. Infatti si è deciso di abbandonare il sistema maggioritario che aveva segnato l'Italia dei primi decenni, l'Italia Unita dei primi decenni e passare invece al sistema proporzionale. Perché questa novità? A volere il sistema proporzionale erano stati i nuovi partiti di massa che si erano affacciati all'orizzonte. Perché? Perché generalmente il proporzionale effettivamente avvantaggiava questi partiti e invece rischiava di danneggiare pesantemente il partito liberale di Giolitti proprio. che non era un partito come lo intendevano noi oggi, era più quasi una sorta di comitato elettorale. Era un insieme di notabili che non avevano una presenza su tutto il territorio nazionale. I liberali vincevano proprio grazie al maggioritario perché spesso candidavano il personaggio più importante, più famoso, più significativo del luogo. Quello che aveva i suoi contatti, quello che aveva i suoi appoggi, il notabile appunto di ogni circoscrizione. Perché? Perché il maggioritario in effetti porta ad essere eletto quello che in un certo luogo ottiene il maggior numero di voti. Il maggioritario tende a premiare il nome del candidato più che il partito, no? Il proporzionale, quando invece si calcola quanti voti prende un partito a livello nazionale e così si calcolano poi i seggi, il proporzionale ricevo, diciamo, dà meno peso tendenzialmente al nome del singolo candidato e dà più peso alla forza del partito, al suo radicamento sul territorio, alla sua anche diffusione su base nazionale. Ecco, i nuovi partiti di massa volevano il proporzionale perché sapevano che questo avrebbe permesso loro di ottenere ottimi risultati. E questo, ripeto, viene concesso a questi partiti ma diventa un rischio per chi ha il potere. Durante la guerra c'erano stati certo anche governi internazionali ma alla fine il baricento era stato sempre in mano sostanzialmente liberali che ora rischiano di vedersi sorpassati. Perché? Quali sono i partiti di massa? Sono essenzialmente due. Uno è un partito che ormai ha anche una sua certa storia alle spalle. Il Partito Socialista Italiano, nato nel 1892, ormai sono passati quasi 30 anni, in fondo se ci pensate. Un partito che si è molto ben radicato. Un partito che ha affrontato la guerra, diciamo così, non schierandosi né a favore né contro alla fine di questa guerra, ma ha difeso le istanze soprattutto della classe operaia e adesso anche della classe contedina. Un partito che spera di ottenere ottimi riscontri elettoralmente. Forte appunto anche di una nuova legge che sembra avvantaggiare. Il partito di Filippo Turati. Il partito, come vedremo, anche di altri importanti esponenti. Non c'è più Benito Mussolini che avevamo citato prima della guerra perché ricorderete che è stato espulso proprio per la sua campagna a favore della guerra e per il suo interventismo. Però ce ne sono altri che citeremo. E sicuramente i socialisti mirano a un grande successo, ma non è l'unico partito questo di massa. Proprio nel 1919, proprio in vista di quelle elezioni, si forma infatti anche un altro partito di massa, un secondo partito di massa, che è quello che viene chiamato Partito Popolare Italiano. A fondarlo, proprio all'inizio del 1919, è un prete che abbiamo già citato, Don Luigi Sturzo. Abbiamo citato a suo tempo, se vi ricordate, perché era stato animatore, insieme a Romolo Murri, di un movimento cattolico chiamato Democrazia Cristiana, che qualche anno prima aveva provato a raffacciarsi all'orizzonte politico. Quel movimento era stato presto sciolto dal Vaticano, lo stesso Murri poi alla fine viene scomunicato, Sturzo viene ricondotto all'ordine, insomma Sturzo era stato, all'inizio del 1900, un prete quasi ribelle, con questa sua voglia di far politica. A resto, nel 1919, Sturzo ci riprova, stavolta gli va meglio, perché il partito nasce. E il partito nasce, anche in un certo senso, con l'appoggio della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica ormai ha definitivamente superato il non-expedit, quel divieto, vi ricordate, parato addirittura da Pio Nono, che proibive i cattolici di far politica in Italia, ma l'ha superata in maniera definitiva anche perché finalmente ha dato il suo avvallo a un partito vero e proprio, un partito che dovrebbe difendere, diciamo così, i principi, i valori della cristianità. Perché adesso la Chiesa dà il suo ok? Perché adesso dà il suo bene placido? Perché non si oppone come aveva fatto fino a poco prima? Perché all'interno della Chiesa c'è una grande paura che il partito socialista ottenga grandi successi. Il partito socialista è un partito ateo, è, che nel suo programma ha anche delle riforme in senso molto laico dello Stato. La Chiesa questo non lo vuole, allearsi con Giolitti come era stato fatto prima della guerra col patto Gentiloni potrebbe non bastare, allora la Chiesa si convince che c'è bisogno di un vero e proprio partito, un partito popolare appunto. Questo partito fondato in fretta e furia appunto da Sturzo tiene un rischetto successo. Perché come vanno queste elezioni nel 1919? Beh, i liberali subiscono un pesante ridimensionamento. Passano dai 300 seggi che avevano ottenuto nel 1913 ad appena 200 seggi, certo non pochissimi anzi, 200 seggi è un risultato di tutto rispetto, ma capite che perdono un terzo dei voti. E un crollo, tutto sommato abbastanza importante, mantengono comunque una certa rappresentanza forti dei loro vecchi legami, del loro appoggio ormai solido e stabile. Invece aumentano i socialisti che vedono triplicare i loro seggi, arrivano a quota 156 sfiorando quasi appunto i liberali e poi però si registra un buon risultato del partito popolare di Sturzo che nonostante sia stato appena fondato, nel giro di pochi mesi raccoglie 106 seggi. Quindi fate un po' i conti, i 156 degli socialisti più 100 dei popolari chiamo le forze di massa, le forze, se vogliamo anche chiamarle tutto sommato popolari, ottengono una maggioranza parziale del Parlamento, 256 contro 200 di giolitti e soci. Solo che partito popolare e partito socialista non possono allearsi. I socialisti quasi quasi lo vorrebbero, c'è anche qualche contatto tra i vertici socialisti e i vertici popolari per poter forse dar vita a una compagine comune, ma i popolari non possono allearsi coi socialisti, sono nati proprio per impedire ai socialisti di ottenere la maggioranza. E allora nasce un nuovo governo formato dall'alleanza tra popolari e liberali. I giolittiani riescono comunque a convincere Sturzo e soci a stare dalla loro parte e così rinascono dei governi di questo tipo. Nel 20 ad esempio è proprio Giolitti a ritornare alla guida del governo, del consiglio dei ministri. Giolitti ormai quasi 80 anni, sembra che la sua stagione sia quasi finita, ma Giolitti dimostra di essere un politico di razza anche in quest'ultima parabola, diciamo, in quest'ultima sua giro di waltzer. Perché cosa fa? Intanto risolve in fretta e furia la questione fiumana. Vi ricordo che, mi ho detto l'altra volta, D'Annunzio aveva occupato la città di fiume, dal Mazia subito dopo l'Istria, contravenendo ogni accordo internazionale, ma nessuno aveva avuto il coraggio di fermare questo poeta eroe di guerra, molto famoso e molto anche amato. Come fa a risolvere la questione Giolitti? Convoca la Jugoslavia a Rapallo, firma con i rappresentanti jugoslavi un trattato, chiamato appunto Trattato di Rapallo nel 1920, con cui l'Italia, con ferme i confini della Jugoslavia, decide di dichiarare fiume città libera, quindi né italiana né jugoslava, poi in realtà qualche tempo dopo sarebbe tornata ad essere italiana, quindi alla fine fiume viene ottenuta dall'Italia e ottiene anche l'Italia, la città di Zara, altra città d'Almata molto importante, quindi alla fine. Giolitti ottiene molto tra gli Jugoslavi, molto di più di quanto non si era ottenuto a Parigi. In cambio però Giolitti si impegna a risolvere la faccenda di D'Annunzio. La Jugoslavia non sa che fare con questo poeta e con i suoi uomini, Giolitti dice ci penso io. Infatti cosa accade? Proprio nel Natale del 1920 Giolitti manda l'esercito a fiume che attacca la città, bombarda perfino il palazzo in cui sta D'Annunzio, lo prende di peso e lo porta via insieme ai suoi uomini. D'Annunzio chiamerà questa operazione giolittiana al Natale di sangue, anche se poi c'è qualche ferito o qualche morto ma poca roba. Natale di sangue col suo fare un po' poetico, ma rifatto D'Annunzio viene ricondotto all'ordine, viene riportato in Italia e nel giro di poco tempo poi si ritirerà a vita privata. Quindi sicuramente un grande successo politico da parte di Giolitti. Ma la seconda problematica, la seconda patata bollente che Giolitti si trova ad affrontare riguarda una cosa che è cominciata a smuoversi in Italia appunto in quegli stessi mesi, a partire soprattutto dal settembre 1920, quello che verrà chiamato il Biennio Rosso. Come vi dicevo infatti già nel 1919 le campagne avevano iniziato ad agitarsi con l'occupazione delle terre, con leghe rosse e leghe bianche molto agguerrite e così via, ma ancora più drammatica divenne la situazione appunto a partire dal settembre del 1920, perché in varie città del nord Italia e soprattutto a Torino, che all'epoca, come in parte ancora oggi, era forse la capitale industriale del paese, iniziano a smuoversi gli operai con l'occupazione vera e propria delle fabbriche. Si contano circa mezzo milione di operai, quindi 500.000 uomini armati, che guidati dalla FIOM, all'epoca e ancora oggi, braccio metalmeccanico della CGL, iniziano ad occupare queste fabbriche. Entrano dentro, cacciano i padroni, le difendono a volte con i fucili, dicendo adesso le fabbriche le guidiamo noi. Questi operai sono spesso guidati da alcuni intellettuali, giovani intellettuali, che dicono che è arrivato il momento di fare in Italia quello che si è fatto qualche mese prima anche in Russia, quello che tra l'altro si è tentato di fare anche in Germania, come abbiamo visto, cioè fare la rivoluzione. Chi sono questi intellettuali? Beh, a Torino c'è un gruppo in particolare abbastanza agguerrito che si ritrova attorno a una rivista chiamata Ordine Nuovo e questo gruppo è formato da giovani socialisti, membri del Partito Socialista, come Antonio Gramsci, come Palmiro Togliatti, sono nomi che ritroveremo spesso nella nostra storia, anche molti anni dopo, almeno nel caso di Togliatti. All'epoca sono universitari, di idee appunto socialiste, spesso iscritti al partito, che pensano che sia giunto il momento appunto di cambiare radicalmente le cose. Si tratta dell'apice appunto del biene rosso, il momento in cui sembra quasi che in Italia stiamo formando quei Soviet che già abbiamo visto in Russia e già abbiamo visto anche altrove. L'Italia potrebbe diventare il terreno fertile per una nuova rivoluzione. Il modello della Russia, il mito anche della Russia e di Lenin, è abbastanza forte nelle menti sia degli operai, sia ancora, forse di più, degli intellettuali, di Gramsci, di Togliatti, di questi personaggi qui. Come va a finire questa faccenda? In realtà, per qualche settimana c'è grandissima tensione, per qualche settimana si pensa che forse possa davvero accadere un cambiamento radicale, poi però si scioglie tutto. Giolitti decide infatti di attuare la sua solita tattica che tanto bene ne aveva portato anche inizio novecento, quella di aspettare, di non arrivare allo scontro forte, feroce e armato, di non attaccare le fabbriche perché poteva solo regenerare la situazione davanti a uno scontro, e invece lasciare che gli operai siano dentro a queste fabbriche, le occupino pure, e vediamo come va a finire. Davanti all'immobilismo di Giolitti, che appunto aspetta, tentenna e nel frattempo tenta di porsi come mediatore, in certi casi tra operai e padronanza, il movimento socialista va un po' in crisi. Perché? Perché il partito socialista che fa? Cosa fa? Cosa fare davanti a questa situazione? Non sa bene come muoversi. Come in Germania, vi ricordate con la rivoluzione spartachista, la SPD, il principale partito socialdemocratico tedesco, era rimasto un po' in difficoltà, tant'è vero che alla fine aveva chiamato i Freikorps a reprimere la rivoluzione, anche in Italia il partito socialista non è mica tanto convinto di metterci alla guida di questa possibile rivoluzione. Dentro il partito socialista è molto forte la componente riformista, quelli che non vogliono una rivoluzione armata, quelli che dicono no, con calma, una riforma alla volta, andiamo a vincere le elezioni, abbiamo già ottenuto un buon risultato, la prossima volta faremo ancora meglio e magari con il rispetto delle leggi e della democrazia riusciremo ad ottenere i cambiamenti che cerchiamo. Se adesso invece facciamo la rivoluzione o proviamo a fare la rivoluzione finisce malissimo, questa è la paura di alcuni socialisti, meno di chi detiene la guida del partito. Allo stesso modo anche la CGL, il sindacato, di cui poi la fiuma era espressione, si trova un po' in difficoltà anch'essa, perché vorrebbe far rimanere la questione su un piano sindacale, su un piano di rivendicazioni salariali, eccetera, non arrivare a una questione politica. Davanti a questa paura, a questo tentennare, sia del sindacato che del partito, c'è un momento di scoramento anche, di cui si approfitta appunto Giolitti. Cosa fa Giolitti? Come vi dicevo, inizia a fare delle proposte, proposte che vertono soprattutto su due fronti. Da un lato, cerca di convincere i padroni a concedere forti aumenti salariali agli operai. Parla loro e dice, guardate, questi stanno occupando le fabbriche, questi adesso hanno il mito della Russia, della rivoluzione, voi dovete concedere qualcosa se non volete che la situazione degeneri. E soprattutto aumenti salariali, riesce anche abbastanza a convincerli. E dall'altro lato, Giolitti prepara un piano, secondo cui, tutte le principali fabbriche dovrebbero essere cogestite, cioè in pratica, all'interno dei vari consigli di amministrazione delle fabbriche e delle grandi aziende dovrebbero entrare anche rappresentanze sindacali, in modo che certe le decisioni vengano prese dal padronato, ma non solo dal padronato, anche dai rappresentanti degli operai, in modo che la loro voce sia sentita. Queste proposte vanno incontro, certo, ad alcune delle richieste del mondo operaio, del mondo sindacale. Quindi cosa succede quando appunto ottieni qualcosa? Il fronte dei rivoltosi si frantuma, si spezza. Perché a questo punto quegli operai che erano molto arrabbiati, ma in fondo non volevano davvero fare la rivoluzione, ci dicono contenti, beh, abbiamo ottenuto molto, in fondo ci hanno dato quasi tutto quello che volevamo, è il momento di smettere con le proteste, firmare i patti che ci propongono, tornare a casa e ricominciare a lavorare più contenti di prima. Questo dicono gli operai più moderati, i riformisti, anche lo stesso partito socialista. Però cosa accade per converso? che invece gli operai più radicali, anche all'interno del partito socialista, i massimalisti dicono no, vedete, Giolitti ci sta fregando di nuovo, Giolitti ci dà il contentino, ci dà qualche piccolo cambiamento per fare in modo che poi il grande cambiamento non arrivi mai. È un modo per calmare le acque e per non ottenere alla fine niente di quello che davvero chiedevamo. Sono piccole cose, sono le briciole quando noi dovevamo puntare invece a un cambiamento più forte. questa situazione ha due conseguenze. Da un lato il biennio rosso si scioglie. Nel giro di poche settimane già a fine 20 inizio 21 la situazione è risolta. Giolitti ha la meglio, gli operai lasciano perdere e a quel punto gli sciopri, le occupazioni finiscono abbastanza spontaneamente. Quindi ulteriore grande vittoria di Giolitti che dimostra ancora una volta di saper mediare, di riuscire a ottenere quello che vuole anche con un certo cinismo forse ma riuscire a ottenere quello che vuole. Il secondo aspetto però interessante è questo. Il fronte socialista si spezza perché l'esito di questo biennio rosso è tragico. In fondo i massimalisti dicono avevamo l'occasione di fare la rivoluzione, siamo andati vicinissimi a cambiare davvero le cose e abbiamo perso tutto. Giolitti ci ha davvero imbrogliati e fregati, ha vinto lui e noi abbiamo perso. Questa faida interna, questa lotta interna al movimento socialista arriva a compimento nel 1921 l'anno dopo quando si tiene a Livorno in Toscana il congresso del partito socialista italiano, appunto il congresso di Livorno. Lì cosa succede? Che si arriva a una scissione i più radicali, quelli di ordine nuovo Togliatti, Gramsci e Amadeo Bordiga che in questo momento è il leader di questa componente decide di uscire dal partito in polemica con quello che il partito ha fatto. Voi che guidate il partito socialista non avete voluto mettervi alla testa della rivoluzione, c'era l'occasione e avete avuto paura. Quindi noi usciamo, non vogliamo più avere niente a che fare con voi e fondiamo un nuovo partito. Nasce appunto in questo 1921 una nuova compagine a sinistra che si chiamerà inizialmente Partito Comunista d'Italia poi diventerà Partito Comunista Italiano fedele agli insegnamenti di Lenin ai diktat di Mosca vi ricordate che abbiamo già accennato al fatto che Lenin chiede a tutti i partiti socialisti di diventare comunisti e di staccarsi dai riformisti. Ecco, queste linee guida di Lenin varate all'interno del Comintern vengono ampiamente seguite dal neonato Partito Comunista Italiano che avrà vari leader Gramsci poi diventerà forse il principale di questa fase e che però si staccherà dal Partito Socialista in toni anche molto polemici tra le due fazioni rimarranno delle fratture abbastanza forti e questa frantumazione a sinistra avrà un certo peso anche in quello che accadrà tra poco perché dopo il 21 arriva e tra poco lo vedremo il 22 il 22 è l'anno della marcia su Roma ecco come avete visto abbiamo fotografato la situazione soprattutto a sinistra in questa fase in parte anche nel mondo cattolico popolare non abbiamo ancora parlato per nulla di fascisti però nel 19 nasce anche il movimento dei fascisti e a questo tema dedicheremo la prossima puntata per intero perché vedremo il primo fascismo lo squadrismo vedremo come da una posizione molto minoritaria all'inizio inizia a guadagnare però spazi opposizioni anche consensi e sicuramente forza violenza e a dimostrarsi soprattutto nel 21 22 la nuova forza con cui bisogna fare i conti dopo che il bienio rosso si è esaurito però tempo al tempo di queste cose parleremo appunto la prossima volta per oggi visto anche il minutaggio direi che possiamo terminare qui vi ricordo come sempre che il podcast lo trovate su tante piattaforme su apple podcast google podcast spotify teaser castbox hot radio speaker horrible e youtube ma su queste piattaforme trovate anche il podcast a gemello chiamato dentro alla filosofia parliamo ovviamente di filosofie in più vi ricordo che se volete spiegazioni anche su altre epoche e su altri temi potete cercarmi su youtube come Armando Ferretti oppure come scrippe li trovate al momento più di 1500 video quindi davvero ce n'è per tutti i gusti infine ultima cosa se volete rimanere in contatto vi ricordo che potete seguirmi sui social network facebook twitter instagram dove mi trovate sempre col nickname di scrip oppure seguirmi sulla newsletter gratuita e settimanale che esce una volta a settimana per abbonarsi basta andare all'indirizzo internet armandoferretti.it oppure ancora vi ricordo che se volete anche a casa anche lontani da internet gustarvi qualche riflessione nello stile di questi podcast e dei canali youtube c'è un nuovo libro in libreria si chiama anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva ovviamente l'ho scritto io Cairo editore parla di filosofia ma parla anche di tempi attuali parla anche di situazioni diciamo così storico-politiche che ci troviamo a vivere certo molta filosofia e filosofia scettica se vi interessa appunto in libreria anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva anche un modo per sostenere tutti questi progetti disponibili sul web basta ho finito ci sentiamo presto per parlare ancora di storia l'Italia di fascismo come vi ho già accennato e poi per tanti altri temi ancora ciao alla prossima